Ma buonsalve e benvenuti in questo nuovo video, si torna a parlare un'ultima volta di Shulk. Molti di voi staranno anche pensando, e meno male, e forse sono anche d'accordo con voi, adesso ci arriviamo. Prima di incominciare devo dirvi una cosa, ogni volta veramente c'è sempre una premessa da fare, ce n'è sempre una nuova. Avevo, perché ormai è, avevo un profilo TikTok, magari molti di voi non lo sanno, è lecito anche non saperlo. Su questo profilo TikTok parlavo bene o male delle stesse cose di cui parlo qui su YouTube e anche su Instagram, quindi cinema, serie tv, mondo, nerd in generale. Il profilo era anche molto seguito, avevo quasi 220.000 follower, quindi non proprio due bruscolini. Il canale, anzi il profilo, mi è stato bellamente bannato ieri, ho provato a fare ricorso, niente da fare. Il canale, mannaggia, il profilo ormai è perso totalmente, ne ho già creato uno nuovo. Trovate il link al nuovo profilo TikTok sotto in descrizione. Se vi va lasciate un piccolo follow, troverete già nelle prossime ore nuovi contenuti su questo profilo appena nato. Veramente cercherò di caricare il prima possibile nuovi contenuti. Quindi se vi va datemi una mano, se non vi va fate un po' quello che volete, non me la prendo, possiamo finalmente parlare dell'ultima puntata di Shulk. Completamente con spoiler come al solito, insomma lo sapete. Shulk è sempre stata divisiva e questo veramente ormai lo abbiamo imparato nel corso di queste nove settimane. C'è proprio un gruppo a favore della serie, un gruppo veramente completamente contro. Io bene o male, nonostante capissi entrambe le due fazioni, sono sempre stato dalla parte dei più positivi, ma un finale così tanto divisivo non l'avevo mai visto. Partiamo dai pregi di questo finale, che sono pochi, ma partiamo dai pregi di questo finale, non è un finale dimenticabile, effettivamente questo finale anche tra 4-5 anni, quando ripenserò alle serie tv del Marvel Cinematic Universe, ripenserò a Shulk, ripenserò a questo finale, rispetto ad altri finali di altre serie Marvel, questo qui veramente resta impresso. Basta, sono finiti i pregi. Per me, come abbiamo detto prima, questa puntata o la si ama o la si odia, io l'ho odiata, veramente non ho mai probabilmente odiato una puntata di una serie tv Marvel come odiato questo episodio di Shulk. Per me è aberrante quello che hanno fatto in questa puntata. Procediamo con ordine. Appunto, a me Shulk è sempre bene o male piaciuta, tranne sporadiche eccezioni qualche episodio effettivamente mi aveva lasciato a desiderare, ma bene o male la mia opinione era abbastanza positiva. C'era però un elemento in ogni singola puntata di questa serie che non mi è mai andato giù, ossia l'abbattimento della quarta parete. Questo finale di Shulk ha preso quell'elemento e l'ha esacerbato, esasperato in una maniera che per quanto mi riguarda è da denuncia penale. Ora, perché a me dà fastidio l'abbattimento della quarta parete in Shulk e non mi dà fastidio per esempio in Deadpool? Perché sono due personaggi completamente diversi. L'abbattimento della quarta parete in Shulk non è qualcosa di preparato, è qualcosa che succede e basta perché nei fumetti avviene la stessa cosa. Shulk nei fumetti abbatte la quarta parete e quindi lo fa anche nella serie. Ma non mi stancherò mai a dire questa cosa, ciò che funziona nei fumetti non è detto che funzioni anche messo a schermo. Deadpool per di più, e non sto parlando dei fumetti, sto parlando proprio dei film di Ryan Reynolds, ha sempre funzionato un po' per i fatti suoi. Non è che Deadpool fa parte dell'universo della Fox o del Marvel Cinematic Universe, ci sono sempre stati dei collegamenti ma erano unidirezionali, quindi poteva succedere qualsiasi cosa nei film di Deadpool. Sti cavoli, è tutto in un mondo che funziona a sé. Shulk invece, quando abbatte la quarta parete, va completamente a distruggere la mia sospensione dell'incredulità perché Shulk fa invece parte di un universo condiviso, fa parte, è totalmente immersa nel Marvel Cinematic Universe. Quindi, quando succedono delle cose strane, quando Shulk abbatte la quarta parete nella sua serie, io sono completamente estragnato e mi rendo perfettamente conto che quello che succede in questa puntata possa suscitare delle reazioni di pancia anche molto positive, stupore, divertimento, pensieri del tipo mamma mia che cavolo sta succedendo. Ma se si guarda cosa hanno realizzato nell'arco di queste nove puntate, il cosa hanno costruito per poi arrivare a questo episodio, non torna nulla. Questi hanno fatto otto puntate di costruzione, male, l'hanno fatto bene, come cavolo volete ragazzi, non è importante, per arrivare a questa puntata qui che è una battuta e tutto Shulk è praticamente un gigantesco pretesto per arrivare a una battuta. È un po' vaffanculo perché la sensazione di aver perso del tempo è fortissima. Io veramente mi sento abbastanza preso in giro e intendiamoci, se Shulk fosse stato uno special stile licantropus, quindi 50 minuti autoconclusivi, un finale del genere, per di più magari uno special proprio scollegato dal Marvel Cinematic Universe, io probabilmente avrei amato un twist del genere con appunto Shulk, ormai stiamo parlando con spoiler, quindi si può tranquillamente dire, con questa Shulk che interagisce con la realtà, con Kevin Feige o comunque chi per lui. Adesso ci arriviamo anche a parlare di Robot Kevin, che per me è un'altra roba berrante, ma invece io mi sono dovuto cuccare otto episodi a questo punto di nulla perché moltissimi risvolti narrativi non sono serviti a un cazzo, è la ricerca del villain, è il cercare di capire che cosa volessero fare, che cosa volesse anzi fare il villain con il sangue di Shulk, tutto inutile. Anche il percorso che ha avuto Jennifer nel corso di queste puntate, un percorso che l'ha portata ad arrivare, ad accettare sia se stessa che la figura di Shulk, non serve a nulla, perché dovevamo semplicemente ridere vedendo Jennifer che interagisce con Kevin Feige. Andate a fanculo. Secondo me poi non ci fa neanche una grandissima figura il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige in generale con questa puntata, e non sto scherzando, ci sta l'essere autironice dire sì effettivamente abbiamo delle defiance e lo ammettiamo, ma questi hanno sostanzialmente detto noi facciamo soltanto serie tv di merda, lo sappiamo che facciamo serie tv di merda, e infatti anche la protagonista se ne accorta. Non è un bellissimo messaggio e mi dispiace ma a nulla servono tutte le strizzatine d'occhio, le citazioni, i camei che vediamo in questa puntata, se è la serie stessa a dire quello che stai vedendo non è importante, è finto, anzi anche scritto male, che cacchio me ne devo fregare di vedere tutta sta roba qui? Sono veramente, boh, distrutto da questa puntata. Forse l'unica chicca divertente che salvo è il previous, l'iniziale con la citazione all'ulk di Lou Ferrigno, quello che non ha il minimo senso ma almeno mi ha fatto, mi ha strappato una genuina risata ma per il resto, boh, aberrante. È il Kevin Robot che è la stessa, ragazzi, è la stessa identica battuta di merda di Space Jam 2 sull'algoritmo malvagio che appunto controlla Warner. Qui abbiamo invece il Robot che controlla il Marvel Cinematic Universe. Solo che se lo fa la Warner li lanciano addosso le pietre e se invece lo fa la Marvel allora geni della vita eterna. Anche la battuta carina, forse quella è un'altra cosa che salverei, la battuta sulla CGI, sul fatto che appunto Shulk non abbia abbastanza budget per avere Jennifer costantemente trasformata, anzi, addirittura gli addetti e gli effetti visivi si sono spostati su un altro progetto e si sente la voce di Black Panther quindi stanno dicendo che appunto gli addetti e gli effetti visivi stanno lavorando a Wakanda Forever. Ok. Poi vabbè, la citazione all'X-Man è completamente gratuita, la citazione a Dark Devil che anche come hanno gestito in questa puntata a Dark Devil è da denuncia penale. partendo dal presupposto che si teletrasporta in scena, proprio ciccia fuori, spona completamente a caso perché Jennifer lo evoca, lui non si fa neanche tante domande, anzi, non si fa proprio domande andando ancora di più ad abbattere la mia sospensione dell'incredulità, va bene. Così, ma anche il come hanno gestito sto cavolo di rapporto tra Jennifer e Matt Marduk era un'avventura di una notte nella scorsa puntata. Qui invece l'hanno fatto diventare qualcosa di più con addirittura Dark Devil che conosce i genitori di Jennifer, si parla addirittura di figli, non penso che si arriverà a quel punto, ma già soltanto il fatto che mi stiano gettando le basi per una relazione romantica tra Matt e Jennifer mi urta perché sono sicuro che non la porteranno avanti, a un certo punto la abbandoneranno perché Dark Devil c'ha la sua serie e nella sua serie non faranno, non penso che faranno comparire Jennifer. Avremo molto probabilmente Karen Page, Echo, forse anche Electra se vogliono farla ricicciare fuori e si potrebbe tranquillamente fare, non c'è spazio per Jennifer nella serie tv di Dark Devil e quindi sono sicuro che sarà l'ennesimo spunto buttato lì e mai più ripreso, esattamente come Hulk e Vedova Nera e mi darebbe molto fastidio se procedessero in questa maniera. L'avevano risolta nella scorsa puntata e si sono di nuovo a, si sono messi di nuovo a complicarsi la vita. Poi, forse questa è l'unica cosa, l'unica, l'unico spunto futuro diciamo che mi può vagamente interessare posto che comunque l'hanno gestita di merda anche in questo caso prima con con un dialogo tra Jennifer e Robot Kevin e poi completamente a caso con il ritorno di Hulk scopriamo che Hulk su Sakaar ha avuto un figlio era abbastanza prevedibile quindi abbiamo finalmente l'introduzione di Sakaar nel Marvel Cinematic Universe posto che comunque ha una capigliatura orrenda e anche la CGI di Sakaar mi fa abbastanza schifo nel delirio di, appunto di Robot Kevin si parla di un film di Hulk non c'è ancora effettivamente una una notizia ufficiale non sappiamo se ci sarà un film su Hulk penso a questo punto di sì suppongo che vogliano veramente procedere in ottica World War Hulk ora secondo me di World War Hulk ci sarà soltanto il titolo non ci sono proprio i presupposti per avere un film con una storia simile a World War Hulk fumetto quindi Hulk contro gli Avengers secondo me se la gestiranno in maniera molto ma molto più semplice quindi Hulk contro suo figlio magari suo figlio si rivelerà un po' troppo cattivello è incazzoso esattamente come appunto Scar nei fumetti c'è anche una forte rivalità tra padre e figlio nei fumetti quindi si potrebbe tranquillamente operare in questa maniera anche perché un World War Hulk molto simile ai fumetti non so neanche come potrebbero incasellarlo nella multiverse saga che cacchio centa World War Hulk in questa fase del Marvel Cinematic Universe boh vedremo sono moderatamente curioso potevano gestirla meglio però e quindi niente questo finale di Shulk mi ha abbastanza distrutto e deluso anche la post credit con Abominio per me il come hanno gestito Abominio è un'altra roba stranissima con un Abominio che sembra cattivo in realtà no è veramente buono però si trasforma quindi fa quello che vuole e però allo stesso tempo si pente di quello che ha fatto e quindi decide di tornare in prigione ma invece no era tutto tutto finto perché Wong lo prende lo porta a Camartage per fare non si sa che cosa mi aspetto a sto punto veramente Abominio possa comparire magari nella seconda parte del film Thunderbolts quindi non farà magari parte del gruppo principale ma magari una piccola capatina in i Thunderbolts potrebbe anche farla se no veramente non capisco neanche la funzione di questo personaggio ma poca roba boh io adesso però voglio sapere la vostra perché sto leggendo veramente tantissimi pareri positivi nei confronti di questo episodio e capisco io questo genuino entusiasmo che però veramente non riesco a condividere quindi veramente fatemi sapere qua sotto con un commento se questo ultimo episodio di Shulk vi è piaciuto se non vi è piaciuto sono veramente curioso adesso vi lascio noi ci vediamo alla prossima in generale ci vediamo quando ci vediamo ciao a tutti ragazzi ciao a tutti